Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di PringiLukatech Ragazzi oggi un video più che altra informazione perché voglio andare ad elencarvi tutto il programma di video che voglio portare qui sul mio canale Con tutti i format e quindi ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito dopo la sigla Vorrei aggiungere un video in più a settimana in modo da lasciare la classica recensione la domenica e portarvi un video infrasettimanale dove vi porto un top applicazioni Come le innovazioni che avete visto qualche settimana fa, vi lascio i link dei precedenti video e tutti i test che ho fatto durante l'ultimo mese in modo da vedere quello che poteva piacervi di più Quindi parleremo di top innovazioni, top applicazioni, vlog con il mio bellissimo drone Vorrei portare anche qualcosa del genere tipo 8climan, vlog da youtuber, un mese da youtuber E quindi ragazzi ho davvero tantissimi progetti in mente e poi ne ho uno in particolare Uno che è particolarissimo perché sto collaborando con tantissimi sportivi per cercare di portarvi una collaborazione con Red Bull Infatti come potete vedere qui dietro sono entrato abbastanza in fissa con Red Bull dal momento in cui ho preso anche le organics E ragazzi devo dire che queste lattine sono davvero straordinarie, mi piacciono tantissimo, non le ho ancora testate, devo dire la verità E magari fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete un video reaction a queste lattine perché penso che non siano buonissime Me ne hanno parlato un po' male e un po' bene quindi non so a quale credere Beh io amo la Red Bull e quindi credo che mi piacciono tutte e quattro Quindi ragazzi questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto E se così è stato lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale E noi ci vediamo domenica prossima sempre qui con il solito prossimo video